Cristian capiamo tutti il tuo disagio ma ormai non ci possiamo più far niente l'ispettricia è morta e adesso dobbiamo comunque andare avanti non mi ricordo più niente azione quando voglio adesso signora mi può dire esattamente cosa ha sentito ieri 9? le ripeto ho sentito delle urla e degli spari e poi? e poi un silenzio di tono e precisamente quanti spari si ricorda? due o tre non mi ricordo bene eccovi ma siete impassati non è più bello questo vi è saltato il mente di chiwanno parti NOO NOO fermati fermati No, 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 questo è troppo. Nonna, quando dico vai, mi aspetta, conta su tanti secondi. Uno, due, tre. Uno, e vai. Guarda là, azione. No, 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 questo è troppo. Non voglio passare ancora una notte dentro, da domani ci trasferiamo a casa tua. Stop. Perfetta, nonna, perfetta. Battuta lunga buona, via. Guarda così. Vai. Qui si muore. Questa mattina. Questa mattina cosa è successo? Sei andato al campo in stima tu stavolta. Uno, due, tre. Uno. Ah no, la cappa è pura. Uno. Uno. Due. Uno. Due. Tre. Guarda lui. Via. Si erano appena trasferite. Era buona, era buona. Che cazzo gliel'abbiamo fatta? Era buona. Non si resta via. Aspetta. Uno. Due. Non si resta via. Non chiudere niente, ne? No, no. Ispira ed espira più volte. Bisogna aspettare in questo momento. Ispira ed espira più volte. Come se fossero tre cose. Si erano appena trasferiti. Nessuno li conosceva e i documenti sono diversi. Ah, ho piedi uguali, ho piaccia di chi. Come ti senti a essere morta? No, sento semplicemente un dolorino allo stomaco, ma niente di che. Ah, più niente di che. E lui come si sente? Leggermente schifato, penso che appena a casa vomiterò. E il cane come si sente? No, amore, mi danno solo a potere. Tutto è scaccato a su. Amore, sì, non sono morta. Aspetta, io non devo respirare. Ma dai! Non devo prendere il respiro. Vai. Uno, due, tre, azione. Che schifo. Così, Asimo. Come faccio? Non puoi dividerla in due. Perché ho gli occhi più mi lati. Ma non si vede. Ma non puoi prendere il respiro, non si vede. Non si vede, perché ho gli occhi più mi lati, ma no. Fermo? No, se mi dici che non si vede, io riscontro anche piangente. No, no, resta piangente, resta. Fermo? Schiaccia. Ok, ok. Giramento di faccia. Ragazzi, sei qui? E tu, chi sei? No, stop! Accendi? C'era della morte della mamma, scerta! Cosa ci fai qui? E tu, chi è? Che intenzioni hai? Che intenzioni hai? Cosa stai facendo? Stop! Va bene, fai come vuoi, ma sarai tu a dire ai miei genitori se mi succederà qualcosa che non mi hai aiutato. Perché faccia la mia pezza, fa la mia pezza, fa la mia pezza, fa la mia pezza, fa la mia pezza. Azione. Sembra la capra. Non è sempre la capra di mia cucina. Non è che non è un maluolo, ho fallito. Fallito. Scedici, scedici e ripodiamo. Ti alzi e poi fai Sì, sì, venite, venite Abbiamo finito Via Venite, venite Abbiamo finito Sì, no, un po' più Un po' più triste Venite, venite, abbiamo finito Riprova E azione Venite, venite Abbiamo finito Sì, esatto Perfetto 1, 2, 1, 2, sediti E Evviva Scena, venite, venite 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai Venite, venite Abbiamo finito Riprova un'altra volta Senza stoppare Riprova un'altra volta E Aspetta Non è possibile Non è possibile Proprio adesso Qualcuno ha visto Qualchino Che c'è Aspetta Venite, venite Abbiamo finito Ma gli si taglia la testa? Sì, tanto dopo Se l'abbiamo finito Ci si vede noi Vi sto facendo? Ok, lo cacco Adesso Ruota tutto Ok Cristian, Brian L'ispettore vuole chiamare La testa Qui c'è qui Qui c'è qui Questa Mi ha messo in i conti Vai L'ispettore vuole Parlarti Mi stavo un tiro Confondendo Azione Cristian Brian L'ispettore vuole parlarvi Sembri un uccello Arrivati Casa Dolce Casa Dammi La valigia Che le vado a sistemare Non dirmi che è questa Guarda Non iniziare a insultarla Perché là c'è la porta Nessuno ti ferma Se vuoi Te ne vai Ma che caso Ma Quella Questa è la porta Ma è larga 10 centimetri Oh, basta Vai Stavo soltanto scherzando Non ci passerei neanche Da quel mezzo buco Cosa, scusa? Ah, osso buco Sì, osso buco Intendevo l'osso buco Che ne dici di mangiare Un bel osso buco? Schiacciato Fammi vedere che è giusto Esatto Hai fatto home Sì, ho fatto home Hai schiacciato ancora E poi hai rischiacciato Per la seconda volta Sì Ok Mi fa ridere il fatto che È durissimo Così fantastico come delle carne Si possa combinare bene con dei pisellini Del meccalci Un bel sughetto E del ketchup Non dirmi che lo vuoi fare veramente Certo Una volta che mi hai letto riso Sì, è vero Sì, è vero Sì, è vero Sì, è vero Io volevo tirarte la mia Questa è arrivare nella storia L'abbiamo registrata L'abbiamo registrata Sì, è vero Sì, è vero Sì, è vero Non c'è tanto olio Nel ketchup Non c'è tanto olio Però io direi Di fare in modo Di farlo vedere Il quadro tu No Metti il tovagliolo Metti il tovagliolo a destra Bravo Eh ma si vede un po' no? Eh non so Si vede? Magari non so No, beh neanche tanto guarda Secondo me no Si confonde con Con i quadretti Le operazioni Ma non si può votare la tovaglia così? Non penso sia tanto Sì, lo sai tanto Eh, è spento Che è un assassino in casa Nonna Era così bello Era bello Contemporane in contemporanea Sì, lo ricordo 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 Che succede qua? È lui l'assassino Ne ho le prove Basti guardare questa foto No, ma voi siete tutti impazziti, no? Almeno sei Adesso Adesso Lei viene con me E andremo a verificare un po' La sua versione dei fatti Andiamo in caserma Dai La ringrazio infinitamente Un attimo Voi debiline Avete fatto un grosso errore Avete fatto un grosso errore Ripeti Aspetta Avete fatto un grosso errore Prego Prego Buongiorno Buongiorno Che succede qua? È lui l'assassino Ne ho le prove Basti guardare questa foto Basti guardare questa foto Ma dai Noi E quattro volte che riesco sul piano Arrestolo Prego Che cazzo Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché ci deve? Dai Dove Padre Padre Io lo so A me non sei... facciamo così, venga con me in caserna, così verificeremo la versione dei fatti. Siete impazziti voi no? Ma che? Perché non si riesce a rinvidere? Perché non si rinviene? Sì, no, ma parliamo per qua, se no non riusciamo più. Stoppola qui, stopola qui che ripartiamo bene. Non lo sai perché mi viene a ridere, perché ho stato portato via delle grazie che tu sei detto. Entri di qua. Ok, sei pronta? Vai via. Certo che però adesso mi lascio la prima rompilla, si è spostata. No, va bene, non prendi niente. Non ti... via. La ringrazio infinitamente. Avete fatto un grosso errore questa volta. Certo, non avremmo mai dovuto invitare questo stupido a casa nostra. No, avete fatto un grosso errore. Va a chiamare me. Eh? Così? Una strussata! Perché? Vedi? Prova a vangarla! È bella! Mi inizia che guarda che ne ne vado io, eh! Guarda che è bella, eh! Azione! Sta arrivando qualcuno. Fai finta di essere svenuta. Deve essere l'ispettore. E stop! Ancora una o basta? No, basta! Che sostefettissimo! Ma se ci fosse un'altra persona a darmi una mano, qui sarebbe tutto più... ... Ma già è impossibile poi incatenare di precisio prima, giusto? Questo che state dicendo? Questa sta qua un po' da me! Ok... Parlati! Tu prima di tutto guarda se non si vede! Cominciamo a attaccare! Un po' da te! Ancora... Ma è bella! Maledetto! Oh! Ci voleva altro di microfoni! Quale? Quello piccolo? Perché quello lì pesa e viene avanti. Pam! Ah! Oh! Oh! Ecco mettilo sotto lì, mettilo un coso di questi Mi state facendo morire Per ridere, noi stiamo soffrendo Se cercate di collaborare io faccio il possibile Collaborare come si fa Si vede molto bene Ok, calma Simo, calma Simo Ma infrancano queste cose Se non si infranca Perché questo che è, è l'impimola 3, 2, dai che dovete essere spaventati che mi sta per arrivare un colpo Tanto non moriamo davvero No, non morite Ah già? Vuoi che ti è ucciso davvero? Si però siamo sicuri che stiamo per morire E? Azione Aiuto Brian! Brian! Aiutaci perché non fai niente Nonna stai indietro Non mi devo guardare Sei un deficiente Non mi devo guardare Azione! Che cosa sta succedendo? Che cosa stai facendo? No, ti si vede, papà si è andato troppo avanti Stai più indietro? Non è che diventa più indietro dai con quella lì Eh, perché io ci sto provando, ci sto provando Vai qua Aspetta Pi indietro Aspetta Tutto mio zio Ma lui si spaventò come nessun altro al mondo e voleva far sparire chiunque potesse sapere Non ce la lascia più oltre Non ce la lascia più oltre Non ce la lascia più oltre Ma dai che non mi spaventano tutto! E pesa troppo cari! Ho deciso Perché ho deciso? Aspetta, ma come ho detto no? Pazzo poi Quasi Quasi E arrivi da di là però E poi quando arrivi Poi quando arrivi Qua ti fermi Ah, sono io adesso a essere scoperto Questa franzia la dici proprio sopra il microfono Tu non sei l'assassino Ma io sì PEM Poi basta PEM C***o PEM Azione Tieni le mani più in alto Partita Corri Vi per terra E guardi giù, sì Via No, no, è morto Ma che no, è morto! No, 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 no Ciao!